La Pietà è un'impresa di onoranze funebri a completa disposizione per l'organizzazione e il disbrigo di ogni pratica funebre con la serietà e grande esperienza. Il nostro staff è molto professionale e consapevole del rispetto necessario quando si affronta un momento difficile come la perdita dei propri cari. Per questo è attento ad ogni dettaglio e sa essere vicino ai nostri clienti sollevandoli da ogni incombenza, dai funerali ai lavori cimiteriali, dagli addobbi floreali fino a vestizione e composizione della salma. La Pietà è a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.